Siamo al video numero 3 per quanto riguarda gli esercizi di riepilogo del calcolo delle aree mediante integrazione. Primo problema di 2 di questo video, verificare che l'area della regione di piano limitata dall'asse x, quindi iniziamo a scrivere i dati, asse x significa y uguale 0, dal grafico della funzione y uguale x meno 1 che moltiplica e alla x e dalle rette parallele all'asse delle y passanti rispettivamente per il punto di flesso e per il punto di minimo della funzione è maggiore dell'area della regione contenuta nel quarto quadrante limitata dal grafico della funzione e dagli assi cartesiani. Quindi dobbiamo determinare il punto di flesso della funzione e anche per disegnare il grafico la studieremo e il punto di minimo. Bene, andiamo a studiare la funzione per disegnare come diciamo il grafico. Partiamo dal dominio. Questa è una funzione che non ha problemi, è verificata per qualsiasi x appartenente ad r, quindi qualsiasi x appartenente ai reali. Secondo punto, simmetrie, quindi calcoliamo y di meno x e questo è uguale a meno x meno 1 che moltiplica e alla meno x. Chiaramente no, simmetrie. Vediamo il segno. Per il segno dobbiamo studiare la diseguazione x meno 1 e alla x maggiore uguale a 0. Per quanto riguarda il fattore e alla x questo è sempre positivo, quindi scriviamo e alla x maggiore di 0 sempre e non si annulla neanche mai. Per quanto riguarda il fattore x meno 1 questo è maggiore uguale a 0 quando x è maggiore uguale a 1. Quindi facciamo il grafico dei segni. Abbiamo qui 1. Il fattore e alla x è sempre positivo, quindi tratto continuo. Il fattore x meno 1 è positivo quando x è maggiore di 1. Quindi questa è la situazione. Per x minore di 1 la funzione è negativa, per x maggiore di 1 la funzione è positiva. Quarto punto, intersezione con gli assi. Asse x, qui già conosciamo la risposta, ma facciamo i passaggi. y uguale a 0, y uguale a x meno 1 e alla x. Eguagliamo i secondi membri, quindi x meno 1 e alla x è uguale a 0 e questo si annulla solo quando x è uguale, e scriviamo x meno 1 è uguale a 0 perché e alla x è sempre positivo, e quando quindi x è uguale a 1. E quindi concludiamo che la funzione taglia l'asse delle ascisse nel punto di coordinate 1, 0. Ora vediamo l'asse delle y. Dobbiamo risolvere il sistema x uguale a 0, y uguale x meno 1 per e alla x. Qui si tratta di sostituire x nella funzione e otteniamo y uguale 0 meno 1 per e alla 0, cioè e alla 0 e 1, quindi y uguale meno 1. E quindi la funzione incontra l'asse delle y nel punto di coordinate 0 meno 1. Quinto punto, limiti. Calcoliamo il limite per x che tende a meno infinito di x meno 1 per e alla x. e quindi quando x tende a meno infinito abbiamo meno infinito meno 1 che rimane meno infinito che moltiplica e alla meno infinito. Ma questo significa meno infinito fratto e alla infinito. Non è una forma indeterminata, sappiamo che l'esponenziale va a infinito più velocemente di qualsiasi polinomio e quindi questo limite vale 0. Adesso calcoliamo il limite per x che tende a più infinito di x meno 1 per e alla x e questo significa che infinito moltiplica e alla più infinito, cioè infinito per infinito, cioè più infinito se vogliamo indicare anche il segno. Studiamo la derivata prima, quindi y primo è uguale. Qui abbiamo la derivata di un prodotto, quindi facciamo la derivata del primo fattore che è 1 per il secondo fattore non derivato più il primo fattore così com'è x meno 1 che moltiplica la derivata del secondo, ma la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stesso. Questo è uguale a e alla x più x e alla x meno e alla x. E alla x meno e alla x è 0 e quindi la derivata prima è x che moltiplica e alla x. Studiamo nel segno quindi x e alla x maggiore o uguale a 0. Il primo fattore è x che è maggiore di 0 quando è maggiore o uguale a 0. Il secondo fattore è e alla x è maggiore di 0 sempre, come d'altronde avevamo visto anche precedentemente. Grafico del segno abbiamo 0 e quindi x è maggiore o uguale a 0 mentre e alla x è sempre positivo e quindi la derivata prima è negativa per x minore 0 e positiva per x maggiore di 0. Significa che nel primo intervallo decresce, nel secondo cresce e quindi qui abbiamo un punto di minimo. Ora facciamo la derivata seconda visto la richiesta del problema, quindi y secondo uguale derivata di un prodotto, quindi derivata del primo per il secondo termine non derivato più il primo termine non derivato per la derivata del secondo e questo lo possiamo scrivere raccogliendo a fattore comune e alla x, x più 1 che moltiplica e alla x. Studiamo il segno di tale quantità, quindi x più 1 per e alla x maggiore o uguale a 0 e questo significa x più 1 maggiore o uguale a 0 per x maggiore o uguale a meno 1 e alla x maggiore di 0 sempre. Facciamo il grafico, siamo a meno 1 e quindi x più 1 è maggiore o uguale a 0 per x maggiore o uguale a meno 1 e alla x è sempre positivo e questo significa che nel primo intervallo abbiamo una concavità verso il basso, nel secondo intervallo abbiamo una concavità verso l'alto e a meno 1 il punto di flesso. Quindi concludiamo che per quanto riguarda il punto di minimo, questo ha coordinate, visto che aveva scissa 0, ha coordinate 0, meno 1, è il punto in cui la funzione taglia l'assa delle y, mentre per quanto riguarda il punto di flesso, questo è uguale a meno 1, dobbiamo sostituire meno 1 alla espressione della funzione, quindi avevamo y uguale meno 1 meno 1 per e alla meno 1, cioè meno 2 fratto e alla 1. Ora abbiamo tutte le informazioni per disegnare il grafico della funzione e quindi avevamo stabilito che la funzione taglia l'asse delle x in 1, 0, taglia l'asse delle y in 0, meno 1 e questo è anche il punto di minimo e poi ha il flesso in meno 1, quindi siamo qui, questo è il punto di flesso. Tendeva a 0 quando x tende a meno infinito e tende a più infinito quando x tende a più infinito. Quindi possiamo provare a disegnare la funzione, qui abbiamo la concavità verso il basso. Nel punto di flesso la concavità cambia, passiamo per il punto di minimo e poi andiamo a tagliare l'asse delle x e poi a più infinito. Ora dobbiamo considerare le rette parallele all'asse delle y che passano per il punto di flesso e per il punto di minimo e quindi questa è la prima e la retta parallele all'asse delle y è passante per il punto di minimo e proprio coincidente con l'asse delle y. Il problema ci chiede di verificare è che l'area che segno in rosso è maggiore dell'area che segno in verde. Andiamo a scrivere gli integrali. Diamo una lettera all'area a sinistra dell'asse delle y e di quella a destra dell'asse delle y e quindi l'area a sinistra è uguale. Questa è negativa quindi dobbiamo considerarla col segno meno davanti, integrale tra meno 1 e 0 di x meno 1 per e alla x in dx. L'area b invece è uguale a meno, per lo stesso motivo, della a, integrale tra 0 e 1 di x meno 1 per e alla x in dx. Usiamo il metodo dell'integrazione per parti. Sapete che io uso la tabella per l'integrazione per parti, quindi mi scrivo ciò che derivo e ciò che integro. Quello che derivo è x meno 1 perché dopo la seconda derivata si annulla e quello che integro è alla x. Mettiamo i segni sulle righe. Deriviamo x meno 1, la prima derivata è 1, la seconda derivata è 0. L'integrale di e alla x è e alla x e quindi il risultato dell'integrale è e alla x per x meno 1 e meno 1 per e alla x. Riscriviamoci l'integrale a e questo è uguale, come detto, a x meno 1 e è alla x meno e alla x da calcolare tra meno 1 e 0 con il meno davanti e quindi meno, sostituiamo 0 e otteniamo 0, meno 1 e alla 0, sostituiamo meno 1 e quindi abbiamo meno, meno 1, meno 1 per e alla meno 1 più e alla meno 1. Spostiamo la tabella un po' più a destra e quindi abbiamo meno e alla 0 e 1 quindi otteniamo ancora la parentesi per un passaggio, meno 1, meno e alla 0 ancora 1, meno, meno 1, meno 1 e meno 2 quindi più 2 e alla meno 1 più e alla meno 1 e questo ci dà, considerando il meno davanti la parentesi, un meno 2 che diventa più 2 più 3 e alla meno 1 e quindi meno 3 e alla meno 1 e questa è l'area della parte A a sinistra dell'asse delle y. ora andiamo a calcolare l'area della parte B, quindi B è uguale a meno x meno 1 e alla x meno e alla x da calcolare tra 0 e 1 sostituiamo 1 e abbiamo meno 1 meno 1 per e alla 1 che è 0, meno e alla 1, meno sostituiamo 0 e abbiamo 0 meno 1 che moltiplica e alla 0, meno quindi più e alla 0 e questo è uguale ancora meno e meno e meno meno 1 e più 1 per e alla 0 che è 1 più e alla 0 che è 1 e quindi qui abbiamo, considerando il meno davanti la parentesi, un e meno 2, valore dell'area della parte B ora confrontiamo, cioè 2 meno 3 e alla meno 1 è maggiore di e meno 2, chiaramente la risposta è sì e quindi abbiamo verificato la richiesta del problema secondo problema, considerare il rettangolo ABCD di vertici A00, B30, C36, D06 quindi scriviamoci le coordinate dei vertici del rettangolo determinare le equazioni delle parabole con asse verticale aventi il vertice sul semiasse delle ordinate positive che passano per il punto C36 e dividono il rettangolo ABCD in due parti, l'una e il doppio dell'altra quindi le parabole devono avere asse verticale, scriviamocelo hanno il vertice sul semiasse delle ordinate positive quindi deve essere 0k, devono essere le coordinate del vertice con k maggiore di 0 e passante per il punto di coordinate 3, 6 le parabole divideranno il rettangolo in due parti che possiamo chiamare A e B e dobbiamo cercare l'equazione di quelle parabole per cui A è uguale a 2B oppure 2A è uguale a B allora scriviamoci l'equazione della parabola generica y uguale a x quadro più Bx più C passaggio per C di coordinate 3, 6 sostituiamo ed abbiamo 6 uguale a x al quadrato che è 9 per A più x per B quindi 3B più C abbiamo l'informazione che l'ascissa del vertice è nulla quindi xv che è meno B su 2A è uguale a 0 e questo ci porta a scrivere che B è uguale a 0 e l'ordinata del vertice, cioè yv uguale a meno delta fratto 4A è uguale a K e questo ci porta a scrivere meno B quadro meno 4AC fratto 4A è uguale a K quindi adesso sfruttando il fatto che B è uguale a 0 lo impongo subito nell'altra condizione meno meno fa più 4A fratto 4A fa 1 e quindi da questa condizione qua otteniamo che C è uguale a K ora andiamo a sostituire ora andiamo a sostituire B uguale a 0 e C uguale a K nella terza equazione e abbiamo 6 uguale a 9A 3B è nullo e quindi più K e questo ci dà per A facciamo tutti i passaggi 9A uguale 6 meno K A uguale 6 meno K fratto 9 l'equazione della parabola quindi è Y uguale 6 meno K fratto 9X al quadrato B è nullo e C è uguale a K bene ora andiamo a farci una figura giusto per capire la situazione in cui siamo questo è il rettangolo la generica parabola passa per il punto C ed ha il vertice sull'asse delle Y e quindi due parti per il rettangolo la parte A ora ho chiamato le due parti proprio con le lettere dei vertici del rettangolo andiamo a modificare tale cosa perché se no ci confondiamo diciamo che le due aree sono A1 e A2 noi dobbiamo scrivere A1 uguale 2 A2 e 2 A1 uguale A2 queste sono le condizioni da imporre per cercare le due parabole quindi qui possiamo scrivere che questa è A1 e questa è A2 e da questa otteniamo la condizione che è A2 uguale 2 A1 altronde possiamo trovarci nell'altra situazione in cui qui abbiamo sempre il rettangolo qui il punto C e la parabola sarà adesso genericamente più bassa questa è sempre A1 questa è A2 quest'altra condizione è quella per la quale A1 è uguale 2 volte A2 bene, questo ci porta a due integrali vediamo la prima condizione scriviamola in rosso la prima condizione l'ho indicata con A2 uguale 2 A1 questo mi porta a scrivere l'integrale tra 0 e 3 di 6 meno k fratto 9 x al quadrato più k in dx uguale andiamo a capo perché se no non c'entriamo a due volte l'area A1 ma l'area A1 è individuata dalla retta di equazione y uguale 6 che è questa che segno in figura meno la parabola che sta sotto la retta e quindi integrale tra 0 e 3 di 6 meno la parabola quindi meno 6 meno k fratto 9 x quadro meno k in dx risolvendo questa equazione troveremo un valore di k che soddisfa la condizione A2 uguale 2 A1 quindi possiamo integrare otteniamo dal primo membro 6 meno k noni per un terzo x al cubo che è la primitiva di x al quadrato più kx da calcolare tra 0 e 3 uguale 2 volte la primitiva di 6 e 6x e qui abbiamo ancora la primitiva con la costante 6 meno k fratto 9 per un terzo x al cubo meno k x da calcolare tra 0 e 3 andiamo a capo sostituiamo gli estremi di integrazione e abbiamo 6 meno k fratto 9 per un terzo per 3 al cubo più k per 3 quando sostituisco 0 ho 0 quindi uguale 2 che moltiplica 6 per 3 è 18 meno 6 meno k fratto 9 per un terzo per 3 al cubo meno k per 3 anche qui quando sostituisco 0 ho 0 quindi finiamo qui ora 3 per 9 è 27 3 al cubo è 27 quindi qui si semplifica tutto come a secondo membro 9, 3 e 3 al cubo rimane 6 meno k più 3k e poi abbiamo uguale 2 che moltiplica 18 meno 6 più k meno 3k e quindi a primo membro abbiamo 6 meno k più 3k e più 2k uguale uguale 18 meno 6 è 12 per 2 24 e poi abbiamo k meno 3k che è meno 2k per 2 è meno 4k continuiamo sulla stessa riga porto meno 4k a primo membro sommato a 2k e 6k porto 6 a secondo membro che sottratto a 24 è 18 e quindi abbiamo 6k uguale 18 che ci dà k uguale 18 sesti cioè k uguale 3 e quindi possiamo scrivere l'equazione della prima parabola che è y uguale riscriviamocela 6 meno k fratto 9 per x al quadrato più k e questa ci dà sostituendo il 3 y uguale 6 meno 3 è 3 fratto 9 6 meno 3 è 3 fratto 9 è un terzo x al quadrato più 3 l'equazione della prima parabola ora andiamo a scriverci la seconda condizione la seconda condizione ci dice che a1 deve essere uguale a 2 volte a2 ricordiamoci che a1 è l'area superiore quella delimitata dalla retta y uguale 6 e la parabola e quindi avremo integrale tra 0 e 3 di 6 meno 6 meno k fratto 9 x al quadrato meno k in dx uguale 2 volte a 2 cioè 2 volte l'integrale tra 0 e 3 di 6 meno k fratto 9 x quadro più k in dx primo membro calcoliamoci già le primitive quindi 6 x meno 6 meno k fratto 9 per un terzo x al cubo meno kx da calcolare tra 0 e 3 uguale 2 volte 6 meno k fratto 9 per un terzo x al cubo più kx x da calcolare da calcolare tra 0 e 3 sostituiamo gli estremi di integrazione e abbiamo 18 meno 6 meno k fratto 9 per un terzo per 3 al cubo meno 3k quando sostituiamo 0 è 0 quindi uguale a 2 che moltiplica 6 meno k fratto 9 per un terzo 3 al cubo più 3k è 0 quando sostituiamo 0 quindi 9 3 e 3 al cubo è 1 9 3 3 al cubo è 1 e quindi abbiamo 18 meno 6 più k meno 3k e 2 per 6 12 2 per meno k meno 2k 2 per 3k è più 6k e qui abbiamo 18 meno 6 meno 12 portato a primo membro che fa 0 quindi questo questo e questo mi danno 0 mi rimane un k e quindi l'equazione è soddisfatta quando k è uguale a 0 e quindi la seconda condizione su k andiamo a scriverci la relativa parabola andiamo a scriverci la relativa parabola y uguale 6 meno k fratto 9 x al quadrato più k k è 0 e quindi la parabola diventa y 6 meno 0 fratto 9 è 6 noni cioè 2 terzi x al quadrato più k 0 e quindi questa è l'equazione della seconda parabola che soddisfa la seconda condizione bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale descrizione i miei contatti mail instagram facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima